Va bene, abbiamo fatto un po' una panoramica su Palazzago, abbiamo detto gioia e dolori in apertura, tanto è, quindi li abbiamo, come dire, confermati. Io ringrazio il primo cittadino Michele Iacobelli, grazie per essere tornato a trovarci, buon lavoro. Grazie, posso aggiungere un... In tre secondi? In tre secondi, sì, il 27 aprile il concerto convegno di Amato e Povia a Palazzago nell'area feste sulla teoria dei gender. Questo è molto importante, è l'undicesimo, diciamo, avvenimento dal 2007 in avanti come Palazzago Avvenimenti. Va bene, l'abbiamo lanciata, ricordiamo...